Dio, cosa ho fatto? A Frank serviva il mio aiuto e io non glielo ho dato. Dopo tutte le volte che lui mi ha difeso, io mi sono comportato come un vero codardo. Non mi perdonerà mai, lui non mi perdonerà mai. Senti, Barry, l'unico modo di onorare rispettosamente Frank è dimenticarcelo completamente. Per quanto ne sappiamo, lui sta bene. Probabilmente sta tornando al reparto e sarà qui domani. Cerca di essere allegro. Prova a non pensarci. Coraggio, vediamo un bel sorriso. Ah, ecco il labbro che si increspa. Ah, ce l'hai fatta! Già, sì, hai ragione, siamo nel grande oltre. Pronti ragazzi, stiamo per riempire ciò che dobbiamo riempire. Oh, carietta! Carl, tu la senti? È magnifica! Sì, siamo fuori dalla confezione. È bellissimo, amico, è bellissimo. Ho le lacrime agli occhi per la felicità di trovarmi qui. Sgranchisciti le gambe insieme a me, cari. Coraggio! Sì, sì, sono il primo, cioè ti voglio entrare nell'eternità. Ehi, patata! Vai così, amico, alla grande! Vengo lavata dalle mani di una dea! Oh, mia bellezza! Sono qui, sono qui, felici! Oddio, aiuto! Oddio, la mia pelle! Questa mi sta sbrollando vivo! Cosa? Cazzo! Lasciami, maledetta puttana! Giochi! Vembrutano! No, ti prego, non parlo tanto famiglia! Oh, no! Formaggio, non meriti questo! Per l'amor del nuvolo! No! No, pspira! Voglio un'ambe! Mangiano i bambini! Dico a tutti i bambini! Dobbiamo scappare! Moriremo tutti! Barry, ascolta! Cerca di reagire e scappa! Ok, amico mio, fa un bel salto al mio tre! Uno! Due! Carlo! Scarra! Barry! Scarta la carta, ma che cosa dici, Carlo? Oddio, no! Oddio, Carl! Carl! Beh, Carl! Carl! Caro dolce Carl! Cosa ti hanno fatto, Carl? No! No! No, no! 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 Cosa ti ha fatto, Carl! 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 Grazie a tutti.